Alleluia, gloria a Dio, benedettosi al nome del Signore, cari fratelli, sorelle e voi tutti che ascoltate, è una gioia ritrovarci. Ringraziamo il Signore che ancora in questa serata ci dà l'opportunità di essere insieme, alleluia, con lo scopo di leggere la Sua parola, amen, la Sacra Bibbia, le Sacre Scritture che sono il fondamento della nostra fede, è una gioia essere ancora insieme per continuare, alleluia, le nostre riflessioni bibliche, qui tratte dall'Evangelo di Luca, ma prima voglio leggere qualcos'altro nei proverbi perché per noi fratelli e sorelle è di fondamentale importanza che giorno per giorno perseveriamo nella riflessione della parola, amen. Gesù disse se voi perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli, perciò ciò che contraddistingue il vero cristiano, il vero credente, il vero seguace di Cristo, il vero discepolo, ciò che contraddistingue, gloria a Dio, il vero cristiano è che persevera nella parola giorno per giorno, amen, vive nella parola, legge la parola, medita la parola, perseverare nella parola vuol dire anche viverla, alleluia, cioè praticarla, perché non basta solo conoscere la parola, non basta solo leggere la parola carissimi, non basta solo avere così una conoscenza intellettuale, teorica, ma bisogna vivere, mettere in pratica la parola perché chi la conosce soltanto, chi la legge soltanto e non la pratica diventa un fariseo, diventa uno scriva, diventa un falso religioso o un falso credente come Gesù, abbiamo letto lì in Luca capitolo 20, Gesù Cristo il Maestro, il Signore nostro, metteva in guardia i suoi discepoli contro gli scribi, guardatevi dagli scribi, guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia, carissimi che ascoltate, è l'ipocrisia è proprio questa, conoscere la parola ma non viverla, oppure predicare ma non praticare, alleluia, io devo predicare ma devo anche praticare, a me non serve solo predicare, se poi tu non pratichi, se tu poi non vivi ciò che la parola ti insegna, noi dobbiamo fratelli conoscere la parola, meditare, riflettere la parola ma la dobbiamo anche vivere, è questo il sigillo di un vero cristiano, gloria a Dio. Vogliamo leggere, prima di passare ancora alla lettura nel Vangelo secondo Luca, voglio leggere qualche verso nei proverbi, amèn, Dio vi benedica carissimi, alleluia, proverbi capitolo 3, grazie Padre perché la tua parola è verità, Signore mio, alleluia, soltanto la tua parola è degna di essere creduta e vissuta e ascoltata, Signore Dio nostro la tua parola è la vera luce, Signore ti preghiamo ancora questa sera, parlaci, guidaci nella verità della tua parola, illuminaci ancora, istruisci ancora Padre nel nome di Gesù, alleluia, illumina il cuore di ogni fratello, di ogni sorella, di ogni persona che ascolterà, Signore allontana ogni pensiero che ci vuole distrarre, che ci vuole disturbare Padre e faccia avere un cuore libero, un cuore puro per ricevere il tuo messaggio, per ascoltare la tua voce, Padre questa sera siamo qui, abbiamo fame e sete di giustizia, alleluia, sazia i nostri cuori Padre, guidami nella tua parola in questo momento, ungi la mia vita, ungi le mie labbra nel nome di Gesù Cristo affinché io possa parlare la verità, alleluia, per la tua gloria Padre ho bisogno di te, Padre nel nome di Gesù, benedici, fortifica e rinnova ogni cuore, ogni anima che sta ascoltando, per la gloria di Gesù Cristo, amén, e gloria al Signore, oh il benedetto in eterno, carissimi nella grazia, amén, vogliamo perseverare giorno per giorno nella riflessione della parola di Dio, ecco perché ho avuto in cuore di mettere questo titolo alle nostre riunioni qui su internet, riflessione biblica, amén, riflessione biblica, vogliamo leggere nei proverbi capitolo 3, amén, al verso gloria a Dio 21, proverbi 3, 21, il Signore nostro Dio benedica a tutti quelli che si stanno aggiungendo, tutti quelli che ascolteranno che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi, cari fratelli e sorelle, amén, dice così la scrittura, figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi, ritieni la sapienza e la riflessione, amén, qui il Signore ci esorta a non dimenticare mai le sue parole, a tenere sempre le sue parole davanti ai nostri occhi, nel centro del nostro cuore, dei nostri pensieri, figlio mio, figlia mia, amén, dice il Signore che queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi, quali cose? Le cose che il Signore ci insegna, le cose che la Bibbia ci insegna, le parole di Dio, noi non le dobbiamo mai dimenticare, trascurare, tralasciare, perché il vero cristiano ogni giorno, alleluia, deve vivere in comunione con la parola di Dio, amén, poiché non di solo pane vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio ogni giorno, alleluia, il vero credente, il vero cristiano, alleluia, colui che veramente ha capito chi è Cristo, lo hai capito chi è Cristo? Tu che mi ascolti, tu che sei qui ad ascoltare questa diretta, questa riflessione, hai capito chi è Gesù? Lo conosci Gesù? Hai afferrato la verità nel tuo cuore? Oppure sei ancora un'anima persa? Sei ancora un cuore perduto, un cuore smarrito, vivi solo di apparenza, di una religiosità fasulla, ma ancora non hai capito chi è Cristo, non hai ancora afferrato il valore di Gesù Cristo? Il vero cristiano ha afferrato il valore di Cristo, amén, alleluia, e sa che non può vivere lontano dalla parola, i veri cristiani non possono vivere lontano dalla parola, perché sennò si cade in un'apparenza, in una falsa religiosità. Tu potresti dire io credo, io credo, io sono credente, io sono cristiano, ma se poi tu non vivi in contatto con questa parola, la tua religione è falsa, la tua spiritualità è falsa, la tua credenza è superficiale, non ha alcun valore, e allora tu cadi nell'errore degli scribi, dei farisei. proverbi capitolo 1 dice ancora al verso 3, al verso 4, per ricevere ammaestramento, vedete mediante la parola cari fratelli e sorelle, mediante le sacre scritture, mediante le parole di Gesù Cristo nostro nostro Signore, noi possiamo ricevere l'ammaestramento. Ammaestramento vuol dire un insegnamento, una istruzione, tramite le sacre scritture il Dio ci ammaestra, ci insegna, ci istruisce, alleluia, affinché noi possiamo crescere, affinché la nostra vita possa essere illuminata, trasformata, ma se tu non impari da Dio, se tu non impari dalla parola di Dio, tu non puoi crescere, tu resterai nella tua miserabile condizione o resterai nella tua carnalità, resterai nel tuo smarrimento, nella tua vanità, tu hai bisogno di imparare dalla parola di Dio, perché la parola di Dio che ci fa diventare uomini completi, alleluia, veri uomini di Dio, amen, veri uomini spirituali, tu non puoi essere un cristiano se vivi lontano dalla parola, se non leggi la Bibbia, se non ti impegni a meditare la Bibbia, se non presti attenzione alle parole della Bibbia, tu non puoi essere un cristiano, tu sei uno smarrito, vedi che non hai la conoscenza, se tu non conosci le scritture sei ingannato dalla confusione che c'è in questo mondo. Dice la scrittura che coloro che vivono lontano dalla parola di Dio, camminano nelle tenebre, lontano dalla parola di Dio, tu stai camminando nelle tenebre, hai bisogno che la parola ti illumini, proverbi 1, 3, per ricevere ammaestramento, circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio e la dirittura. La parola di Dio ci insegna riguardo all'agire saggiamente, cioè affinché noi possiamo avere un comportamento saggio, una condotta saggia, circa l'agire saggiamente, la parola di Dio vuole inculcarti, ascoltami uomo che sei lì, donna che sei lì, che ancora non hai questa fede, questa conoscenza. La parola di Dio ti vuole inculcare il buon comportamento, la giustizia, la saggezza, la dirittura. Dirittura vuol dire che tu puoi vivere una vita diritta e non più una vita storta, con un comportamento storto. Storto vuol dire che tu stai camminando in una deviazione, non stai camminando nella diritta via, ma stai andando in una via storta, stai camminando storto, in una via sbagliata. I tuoi piedi, i tuoi pensieri, i tuoi peccati ti stanno trascinando in una via errata. Ma il Signore, alleluia, oh alleluia, alleluia, il Signore ti vuole illuminare con la sua santa parola, perché noi stiamo vivendo negli ultimi tempi, nei giorni della fine, noi stiamo vivendo tempi pericolosi, tempi difficili. Allora c'è bisogno che ogni giorno, carissimi, ogni dì, ogni istante, la parola del Signore illumini il nostro cammino, il nostro cuore, il nostro pensiero, così come sta scritto nei Salmi 119 al verso 105. La tua parola, oh eterno, è una lampada. Amen, alleluia. Quanti possono dire questo? Signore, la tua parola è una lampada, alleluia, che illumina i miei passi, che illumina il mio cammino. La tua parola è una luce sul mio sentiero. Questa parola, carissimi che mi ascoltate e che mi vedete, questa parola è la vera luce. La parola di Dio è la vera luce, la Bibbia, la parola del Signore è una lampada che può illuminare il tuo cuore, ma se tu vivi lontano da essa, se tu la trascuri, se tu non la leggi, se tu non l'ascolti, se tu non la rifletti, tu stai vivendo nel buio, pur chiamandoti cristiano, pur definendoti un religioso, un credente. Quante persone dicono di essere cristiani, ma stanno vivendo nel buio. E ce ne sono tanti oggi nel mondo, sono come gli scribi. Sapete che oggi il mondo è pieno di scribi e di farisei. Gli scribi erano degli uomini che loro dicevano di essere i depositari della legge. In mezzo al popolo ebraico, cari fratelli e sorelle, ai giorni di Gesù, gli scribi erano considerati i maggiori dottori o maestri del popolo. Gli scribi erano considerati i maggiori istruttori del popolo d'Israele o del popolo ebraico. Gli scribi erano stimati come i maggiori maestri della legge, della Torah a Gerusalemme e in Israele. Ma gli scribi, loro vivevano soltanto di apparenze, perché loro conoscevano le scritture in un certo senso, ma non le vivevano. Un ipocrita, un scriba, un fariseo è colui, alleluia, che conosce le parole di Dio, ma non le mette in pratica. Misericordia. E oggi ci sono tanti scribi, farisei, anche nelle chiese, e mi dispiace dirlo, anche fra di noi, nelle chiese evangeliche, ci sono tanti conoscitori della parola. Tanti che dicono io conosco la Bibbia, io la sua memoria, io addirittura la predico, ma poi non la vivono. Costoro stanno diventando degli scribi dei giorni d'oggi. E Gesù Cristo mette in guardia il suo popolo e dice a ognuno di noi, guardatevi dagli scribi. Luca 20, versetto 45, che poi adesso leggeremo. Il Signore ci mette in guardia contro gli scribi. E gli scribi, come dicevo, in quell'epoca erano i dottori, i maestri, per così dire, più ammirati. La gente del popolo ammirava, fratelli, gli scribi, perché addirittura gli scribi solitamente avevano il ruolo o il compito di trascrivere le scritture. Come dicevo ieri, e gloria a Dio che oggi ho più tempo a disposizione, amena, alleluia, gli scribi, cari fratelli e sorelle e anche voi che ascoltate, erano coloro che avevano il compito, possiamo dire, di tramandare le scritture. Loro le scrivevano. Loro avevano il compito di trascriverle, perché in quell'epoca, carissimi, come tutti noi sappiamo, non c'era la tipografia, non potevano stampare le Bibbie, non c'era la stampa, non esisteva tutta questa tecnologia di oggi. Allora c'erano degli uomini incaricati, possiamo dire, nel Tempio, incaricati dagli anziani del popolo, dai dottori o dai sacerdoti, e questi uomini avevano il compito di copiare, possiamo dire, a mano, ascoltate, loro copiavano, loro trascrivevano a mano le scritture, ma loro la conoscevano ma non la praticavano, come tanti oggi nelle varie religioni del mondo, sapete per esempio il Vaticano? È pieno di scribi, loro si professano essere i grandi cardinali, grandi maestri, hanno il magistero della Chiesa, ma di quale Chiesa? La Chiesa di Satana, fratelli, il Vaticano è di Satana, ascoltami, tu che sei qui per la prima volta, io sto predicando la verità, non seguire il Vaticano corrotto, i preti corrotti, che sono ciechi, che guidano altri ciechi, segui Cristo, alleluia, segui la parola, oh alleluia, segui la verità, segui il Vangelo, segui la parola del Signore, amen, alleluia, perché questa parola non l'ha inventata la Chiesa romana, questa parola viene da migliaia, migliaia di anni tramite l'ispirazione divina, oh dello Spirito Santo, ti voglio dire tu che non conosci la parola, che sei ancora un ignorante, che sei ancora nel buio, che sei ancora un incredulo, ma che sei qui ad ascoltare, non è un caso se è la mahaia, sei qui in mezzo a noi, alleluia, te lo voglio dire, sì te lo dico adesso, anche se mi consideri un pazzo e un fanatico, non mi interessa, io sono un fanatico di Gesù Cristo, prima ero un fanatico delle cose che mi rovinavano, ero un fanatico delle birre, ero un fanatico del calcio, ero un fanatico della pornografia, ero un fanatico del peccato, ma oggi, alleluia, sono un fanatico di Cristo, è vero, alleluia, dillo, alleluia, io sono un fanatico di Gesù, perché lui mi porta al cielo, lui mi dà la vita eterna, mi dà la salvezza, come potrei non essere un fanatico di Gesù? Come potrei essere un cristiano tiepido? Come potrei essere un cristiano all'acqua di rose? Come potrei essere un credente superficiale? Ma no, carissimi, noi dobbiamo essere fanatici di Gesù Cristo, noi dobbiamo essere fondamentalisti del Vangelo, alleluia, della dottrina biblica, sì, noi dobbiamo essere veri uomini di fede, gloria a Dio, alleluia, perciò ti voglio dire, aggrappati a Gesù Cristo questa sera, non credere nelle bugie del Vaticano corrotto, nei dogmi che non vengono dalla Bibbia, voi sapete che il Vaticano, e non è un caso se adesso sto parlando questo, perché il Vaticano e il clero cattolico, il clero, il cosiddetto clero della Chiesa Romana, loro sono i primi scribi e i primi farisei che stanno portando l'umanità alla perdizione, la Chiesa Romana è la grande meretrice, è la grande prostituta, la Chiesa Romana è corrotta, è un covo di bugie, è un covo di demoni, è un covo di idolatria, nel Vaticano è il diavolo che è seduto su quel trono dove il Papa si siede in verità, è il diavolo, e tu non devi credere al Vaticano, tu devi credere in Gesù, il figlio di Dio, la via, la verità e la vita. Se c'è qualche cattolico che mi sta ascoltando, ti voglio dire, esci da quell'inganno dove regna l'errore, dove ci sono tanti dogmi che non hanno niente a che vedere con la Bibbia. Alleluia! E te lo sto dicendo con amore. Se vuoi ancora te lo dico, chiamami che ne parleremo in privato e ti insegnerò da parte di Dio la verità, perché mio dovere è predicare la verità, insegnare la verità, parlare la verità, vivere la verità di Gesù Cristo. Tu hai bisogno di conoscere questa verità che ti renderà libero dall'inganno del diavolo e degli uomini ipocriti che usano la fede per il loro guadagno. Questi sono gli scribi, i farisei. Loro usavano la fede per il loro guadagno. Loro usavano la fede per il loro tornaconto. Loro amavano, come Gesù dice, i primi posti nelle sinagoghe. Loro amavano passeggiare nelle piazze con le loro tuniche lunghe e appariscenti. Gli scribi, i farisei, amavano salutare le persone nelle piazze ed essere ammirati dagli uomini. I farisei amavano, amavano sentirsi chiamare rabbi, che vuol dire mio maestro. Sapete che la parola rabbi o rabbino vuol dire mio maestro. E gli scribi, i farisei e i dottori della legge, amavano che le persone li chiamavano così mio maestro. Loro si sentivano esaltati dagli uomini. Loro si vantavano. Loro si inorgoglivano, vivevano in un orgoglio. Loro erano arroganti. Loro amavano la fama. Loro amavano i posti elevati. E così fanno questi ipocriti, corrotti del Vaticano. E io queste cose che sto dicendo le dico qui su internet, ma le dico anche fuori, all'aria aperta, all'aria aperta, nelle piazze. Quando il Signore spesse volte mi manda a predicare fuori da quelle cattedrali, fuori dal duomo o fuori da quelle cosiddette chiese, piene di buio, di morte e di oscurità. Perché nella Chiesa romana c'è la morte. Nella Chiesa romana c'è il buio. Nella Chiesa romana c'è Satana. Basta guardare dentro una di queste cattedrali. Ti è mai capitato passare fuori da una di queste cattedrali e guardi dentro? È tutto buio. È tutto buio. E guardi dentro ci sono queste statue orribili, queste statue veramente brutte. È un luogo dove regna le tenebre, dove c'è il buio. Non c'è Gesù Cristo in quei luoghi. È il Vaticano. È una fabbrica di idoli. È un luogo di corruzione, di perversione, anche sessuale. L'altra volta ho visto un documentario su internet che hanno trasmesso in televisione, che fanno vedere la doppia vita dei preti a Roma. A Roma ci sono tante saune nei pressi del Vaticano pure, perché voi sapete che il Vaticano è uno stato dentro l'Italia, che si è infiltrato nell'Italia. Il Vaticano è uno stato in sé stesso ed è lo stato più ricco al mondo. Andate a fare delle indagini su internet, il Vaticano è lo stato più ricco al mondo. Ma Gesù ha detto non fatevi tesori sulla terra. Alleluia! Ascoltami caro e cara che sei lì. Gesù Cristo dice non fatevi tesori sulla terra. Non accumulate tesori sulla terra. E come mai il Vaticano, corrotto, materialista, si è fatto tutto quel patrimonio, quelle ricchezze, il Vaticano è lo stato più ricco al mondo. Il Vaticano è una fabbrica di idoli. Il Vaticano è una fabbrica di menzogne, perché loro non stanno seguendo la parola del nostro Dio. Loro non stanno seguendo l'esempio di Cristo. Loro non stanno seguendo l'esempio di Gesù. Il Vaticano, vi voglio dire, è il regno dell'anticristo. Nel Vaticano c'è lo spirito dell'anticristo. E se voi fate delle indagini, carissimi, anche su internet, voi scoprirete che tutti i papi, tutti i papi si sono macchiate le mani col sangue degli innocenti. Tutti i papi sono stati dei grandi peccatori, violenti, sanguinari, uomini perversi, malvagi. E voi sapete, cari, che dove è sorto il Vaticano, dove oggi c'è quel luogo chiamato Vaticano, nei tempi antichi c'erano dei templi pagani, dell'occultismo, di varie religioni ancestrali, possiamo dire a sfondo spiritico o spiritistico, occultistico, che si praticavano nell'antica Roma, dove gli imperatori e tutti gli uomini che non conoscevano il vero Dio evocavano gli spiriti, facevano riti di vario genere, anche sacrifici umani. E il Vaticano è sorto proprio in quel luogo dove migliaia di anni fa c'erano dei templi pagani, di un certo Dio pagano chiamato Mitra, dove loro facevano ogni tipo di riti, fratelli e voi che mi ascoltate, facevano orge, riti veramente diabolici, anche di sacrifici umani. Il Vaticano è sorto proprio nelle rovine di questi templi pagani, ma vi voglio dire il Vaticano è la continuazione di tutto ciò perché alcuni investigatori americani di alto livello e uomini che studiano queste cose dicono che nel Vaticano, nei sotterranei del Vaticano ci sono stanze segrete dove ancora oggi questi uomini perversi come i grandi cardinali, i grandi e possiamo dire così tra virgolette leaders delle gerarchie papali in queste stanze segrete fanno ancora dei riti terribili. Il Vaticano è un covo di demoni, non crediate a queste cose cari che mi ascoltate, non crediate al Vaticano, crediate in Cristo, guardatevi dagli scrivi e dai farisei, dai falsi religiosi che abbondano in questo mondo. Il Vaticano è una fabbrica di menzogne, il Vaticano è una fabbrica di idoli ed è una fabbrica di falsi dei. Io conosco persone carissimi che mi hanno raccontato che quando loro sono andati a fare diciamo così una gita a Roma e sono andati a visitare il Vaticano, quando sono stati lì nei pressi di questa cosiddetta, di questa cosiddetta basilica, come la chiamano di San Pietro, ci sono delle persone che sono entrate lì, hanno sentito veramente delle presenze brutte, hanno sentito proprio il buio dentro il Vaticano perché nel Vaticano non c'è il Signore, nel Vaticano non c'è la luce di Gesù Cristo, nel Vaticano non c'è la verità, ma c'è il buio, c'è il diavolo, ascoltatemi una volta per tutte, il Vaticano è una fabbrica di menzogne, di dogmi falsi, di riti falsi, di idoli, di eresie, di bestemmie, non lo dico io, lo dice la Bibbia, andate a leggere Apocalisse capitolo 18 e voi vedrete che parla simbolicamente, spiritualmente, parla di una donna seduta su una bestia che ha sette teste e questa donna che viene raffigurata così in Apocalisse è vestita di porpora e questa donna ha una coppa d'oro e in questa coppa d'oro ci sono nomi di bestemmie, in questa coppa d'oro che quella donna tiene in mano, secondo quello che sa scritto in Apocalisse 17 e 18, in quella coppa d'oro ci sono tutte le blasfemie e le eresie della grande meretrice, quella donna rappresenta una città, quella donna, dice il libro dell'Apocalisse, rappresenta una falsa sposa, una falsa sposa di Gesù Cristo, cioè una falsa chiesa, una falsa religione e quella donna seduta su una bestia che ha sette teste, questo è un linguaggio metaforico che abbonda nel libro dell'Apocalisse, quella donna rappresenta una città e si chiama Babilonia la grande, la madre di tutte le menzogne e di tutte le eresie, di tutte le bestemmie della terra e viene chiamata la grande femeretrice, quella donna simbolica vestita di porpora piena di oro d'argento, ditemi voi se questa non è una figura della chiesa papale, della chiesa romana, della chiesa corrotta, del Vaticano che è pieno di oro d'argento, i cui prelati o i cui sacerdoti sono vestiti di porpora, andate a vedere i video su internet, quando fanno queste grandi riunioni papali o sacerdotali dei cardinali, sono tutti vestiti di porpora, di viola, quella è la grande meretrice, la chiesa papale, la chiesa romana, la chiesa corrotta che non ha niente a che vedere col vero Vangelo di Gesù Cristo, perché la vera chiesa di Cristo non è un'istituzione come loro hanno fatto, piena di dogmi, piena di riti, ascoltate questa verità, voi dovete conoscere qual è la vera chiesa di Gesù Cristo, voi dovete conoscere chi sono i veri cristiani, alleluia, voi dovete conoscere chi è il vero maestro, il vero pastore, il vero re dei re, voi dovete conoscere chi è veramente il capo della chiesa, chi è veramente Gesù e tu sarai liberato, tu sarai liberato dall'inganno degli scribi, dei farisei e come vi dicevo l'altra volta ho visto un documentario, lo ho anche condiviso, alleluia, sul mio canale di youtube per smascherare queste cose e in questo documentario facevano vedere la doppia vita di certi preti, le cose abominevoli che si fanno nel Vaticano e nei pressi del Vaticano, nei pressi del Vaticano cari che mi ascoltate ci sono delle saune frequentate da omosessuali, da gay, da uomini perversi dove vanno fare incontri, uomini con e nella loro depravazione, loro fanno cose indecenti, cose orribili e in questo documentario facevano vedere dei giornalisti, ascoltatemi, dei giornalisti accreditati, facevano vedere queste saune frequentate da preti, dove i preti di giorno fanno la messa e poi di notte vanno a fare le orge, dove i preti di giorno confessano le persone e poi alla sera loro vanno ad affogarsi nei peccati, l'omosessualità dilagante, fratelli e sorelle, la perversione e i grandi capi tra virgolette della chiesa romana lo sanno perché loro stessi sono i primi a praticare questi abomini, addirittura ci sono su internet delle cosiddette chat dove preti cercano degli incontri con uomini, queste cose non le invento io ma sono vere, questi sono i primi ipocriti impostori che loro dicono di essere guide del popolo, il Vaticano dice di essere la chiesa depositaria della verità ma loro cari che mi ascoltate sono dei grandi bugiardi, il Vaticano veramente io non riesco a trovare le parole fratelli per descrivere quello che è il Vaticano, il Vaticano è una fabbrica di demoni, il Vaticano è una fabbrica di menzogne, il Vaticano è una fabbrica di idolatria dove nei dieci comandamenti, ascoltatemi, ve lo leggo qui in diretta, tutti voi che ascoltate e voi cari fratelli e sorelle che state ascoltando, pregate per queste anime che non conoscono la verità, per le persone che sono ancora cieche, preghiamo per loro affinché nel nome di Gesù possano trovare la luce, la verità, alleluia, possano trovare la salvezza in Cristo e possano uscire dalla perdizione, dall'inganno che c'è nel Vaticano corrotto, possano liberarsi da quella schiavitù di una falsa religione corrotta e loro possano abbracciare la verità di Gesù Cristo nostro Signore. Nel libro dell'Esodo capitolo 20 quando parla dei dieci comandamenti, il Signore dice queste parole, Esodo 20 verso 2, alleluia, 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 dice io sono l'Eterno, il Signore l'Iddio tuo, io sono il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla chiasa di schiavitù, non avrai altri dei davanti a me, non avrai altri dei all'infuori di me. E poi dice non, ascoltatemi, non, non, non ti farai sculture alcuna, ne immagini alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai perché io il Signore e il tuo Dio sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza, la quarta generazione di quelli che mi odiano, il Signore dice chiaramente, mi Dio, l'Onnipotente dice chiaramente nei suoi comandamenti, non fatevi sculture né immagini, non fatevi sculture, non fatevi immagini, non fatevi statue e non vi prostrate, non vi inginocchiate davanti ad esse. Ma come mai il Vaticano, la chiesa papale, la chiesa romana durante la storia ha fabbricato, ha costruito tutte queste statue, queste sculture, queste immagini, dicendo questa è la statua di San Gennaro, questa è la statua di Santa Rita, questa è la scultura di Padre Pio, questa è l'immagine di Padre Pio e le persone venerano queste cose perché vengono trascinati da questi inganni. Ci sono persone che baciano i piedi delle statue, ci sono persone che si inginocchiano, pregano le statue e questa è idolatria, questo è un grave peccato davanti a Dio, il Vaticano è una fabbrica di peccati, il Vaticano è una fabbrica di idolatria, il Vaticano, la chiesa papale, la chiesa romana è un covo di menzogna e sapete che i primi a essere colpevoli sono questi cosiddetti papi perché sono loro i primi scrivi e farisei, ipocriti, bugiardi, impostori, sono i primi loro a dare il cattivo esempio davanti al popolo perché tutti questi cosiddetti papi sono stati i primi, misericordia, a inginocchiarsi davanti alle statue, alle statue di una cosiddetta madonna, davanti alla statua di una cosiddetta santa o di un cosiddetto santo, ma sono statue e le statue sono peccato, sono un abominio davanti a Dio perché nei dieci comandamenti il Signore dice non fatevi sculture, ne immagini, delle cose che sono lassù nei cieli e non vi prostrate davanti a loro, ma invece questi papi corrotti sono i primi che si inginocchiano davanti alle statue, davanti alle statue dei cosiddetti santi, davanti alle statue di una cosiddetta madonna e questi papi si prostrano davanti a queste cose, a questi oggetti inanimati perché una statua non ha vita, una statua non può ascoltare, dice la Bibbia hanno orecchi ma non odono, hanno occhi ma non vedono, hanno piedi ma non camminano, sono idoli morti, sono oggetti morti, cioè senza vita, inanimati, sono sculture idoli di disubbidienza perché il Signore ha proibito di fare queste cose, perché il Dio è spirito e Lui vuole che lo adoriamo in spirito e in verità, non tramite questi oggetti maledetti perché le statue, ascoltatemi cari, sono oggetti maledetti e dietro le statue in verità si nascondono delle entità demoniache, dietro le statue si nascondono spiriti malvagi che ingannano le persone e ci sono persone che diventano schiavi di queste cose. Avete mai visto quelle persone che quando camminano per strada passano davanti a una statua e si fanno il segno della croce? Loro sono schiavi, sono schiavi dei demoni, ascoltami, sono schiavi di Satana, sono schiavi dell'idolatria, del inganno che la Chiesa papale corrotta ha prodotto nella storia dell'umanità. Ecco perché in Apocalisse 17-18 quella donna vestita di porpora, chiamata la grande Babilonia, la grande meretrice, è colpevole di aver ingannato le nazioni e di aver trascinato l'umanità verso la morte spirituale e quella donna che raffigura una città. Leggete la Bibbia, gloria a Dio, non siate ignoranti, leggete la scrittura, amen? Non siate ribelli, leggete la Bibbia, io vi sto parlando con la Bibbia in mano, gloria al Signore e ti dico queste cose perché ti amo nell'amore di Gesù, non voglio che ti perdi, uomo che mi ascolti, guardami negli occhi, io non voglio che tu ti perdi all'inferno perché se tu continui a vivere in quella condizione tu andrai all'inferno e non esiste purgatorio, non esiste messa di suffraggio, non esiste candela che ti possono accendere per tirarti fuori dall'inferno, ma solo se tu adesso che sei in vita riconosci Gesù e ti penti dei tuoi peccati tu adesso troverai la salvezza perché dopo la morte non c'è niente da fare. Ascoltami caro, leggi la Bibbia e se non sai leggere la Bibbia chiamami, te la leggerò io al telefono, te la leggerò io gratuitamente, gloria al Signore, tu hai bisogno di conoscere la verità, quella donna rappresentata in Apocalisse seduta su una bestia che ha sette teste, quella bestia con sette teste dice la Bibbia, le sette teste rappresentano sette monti e la bestia sulla quale la donna è seduta rappresenta una città, una città con sette monti o sette colli e tutti noi sappiamo che quella città è Roma, Roma è la città dai sette colli dove siede la donna che rappresenta una falsa religione che ha ingannato il mondo intero e quella donna rappresenta il sistema corrotto della Chiesa Papale. Ascoltatemi, io non avevo in mente di parlare di queste cose ma si vede che c'è bisogno. Fuggi dalla Chiesa Papale, voglio dare questo titolo al messaggio, fuggi dalla Chiesa Papale, dalla Chiesa Corrotta e aggrappati a Gesù Cristo in verità, fuggi dal Vaticano Corrotto, il Vaticano ti porterà la morte perché lì c'è l'idolatria, c'è la morte, c'è l'inganno, c'è Satana, nel Vaticano c'è lo spirito del diavolo, dell'anticristo. Voi sapete che durante tutta la storia dell'umanità, soprattutto nel Medioevo, i Papi, questi cosiddetti, possiamo dire imperatori, perché il Papa, fratelli e uomini che mi ascoltano, il Papa non è altro che un imperatore di un regno, perché il Vaticano è un regno, come dicevo il Vaticano è uno Stato. Voi sapete che il governo d'Italia non può fare nulla contro il Vaticano, perché il Vaticano è un governo a se stesso, il Vaticano è uno Stato ed è lo Stato più ricco del mondo. Loro che si professano essere, come dicono, loro dicono di essere i seguaci di San Pietro, oppure hanno un altro termine che usano questi bugiardi, questi impostori. Loro dicono di essere, e scusate ora non mi viene in mente la parola, aiutatemi se qualcuno lo sa, loro dicono che il Papa è il seguace di San Pietro, lo chiamano loro, o il sostituto di Pietro. Invece il Papa è un servo di Satana. Il Papa è un servo del demonio. Il Papa è uno strumento del diavolo. Il Papa, anche se questo Papa, ascoltatemi, soprattutto voi che non siete credenti, il Papa, soprattutto questo Papa di oggi, questo cosiddetto Papa Francesco, come viene chiamato, è un grande bugiardo. Questo Papa è un grande ipocrita. Lui sembra che parla belle parole. Questo Papa sembra che dice belle cose, ma è un emissario di Satana, è un emissario dell'anticristo. Il Papa è il falso profeta, che probabilmente si unirà all'anticristo, che presto si manifesterà nelle nazioni. Questo governatore mondiale, che governerà nel mondo intero l'anticristo, sarà sostenuto o appoggiato da un leader religioso, chiamato il falso profeta. E probabilmente questo falso profeta sarà il Papa. Un Papa. Perché voi sapete che il Papa, soprattutto questo Papa, questo eretico, che molti ammirano perché dice belle parole, questo Papa è umile. Ma cosa umile? Come mai non abbandona il suo appartamento da 500 mila euro? Come mai questo Papa che dice di essere umile, perché non abbandona il suo appartamento da 500 metri quadrati? Perché non si ravvede della sua idolatria, della sua menzogna e del suo amore per il denaro? Questo Papa, cari che mi ascoltate, è uno dei peggiori che ci sia mai stato. È un gesuita. È membro di una loggia occulta del Vaticano. I gesuiti sono uomini che veramente durante la storia hanno fatto delle cose veramente orribili. Erano amici dei nazisti. Voi sapete che i gesuiti, ma anche i papi, in quell'epoca quando c'era Hitler, loro addirittura benedicevano le armi dei nazisti. Il Vaticano è stato uno dei primi sostenitori dei nazisti. Perciò il Vaticano è macchiato del sangue degli innocenti. I papi durante la storia sono stati dei grandi sanguinari, dei grandi omicidi, uomini violenti che per sostenere o per portare avanti il loro potere. Uccidevano, mandavano uccidere le persone. Voi sapete nella storia, soprattutto nel Medioevo o nell'anno 1100-1200, quanti protestanti hanno fatto uccidere. In Francia c'è stata una strage di protestanti. Uccidevano delle persone che non si volevano sottomettere al governo papale. Perché il Vaticano è uno Stato a se stesso ed è lo Stato più ricco al mondo che se loro volessero in un giorno solo la fame che c'è in Africa scomparirebbe. Se il Papa o il Vaticano mandassero tutti i loro soldi in Africa non ci sarebbero più persone che muoiono di fame, ma loro non lo fanno. Perché loro sono amanti del denaro. Sapete che la maggior parte delle persone in Italia che muore senza avere ereditari, per esempio una signora muore, una vecchietta muore e non ha un ereditario da lasciare i suoi beni, questa persona che muore lascia tutte le sue ricchezze al Vaticano. Il Vaticano è un luogo dove regna il materialismo, l'amore per il denaro, dove regnano le tenebre, dove non c'è la verità cari. Ma io questa sera sono qui a parlarvi la verità. Come Gesù Cristo disse ai suoi discepoli, guardate, Luca capitolo 20, Gesù Cristo disse ai suoi discepoli guardatevi dagli scrivi i quali passeggiano volentieri lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze. Lo stesso che oggi questi cosiddetti cardinali e grandi tra virgolette prelati della Chiesa romana, loro amano passeggiare nelle piazze con i loro vestiti appariscenti, loro amano che le persone si inchinino davanti a loro, loro amano la gloria umana, il potere, il successo umano. Quando questo cosiddetto Papa fa quelle cosiddette messe al Vaticano dove vengono migliaia di persone in quella piazza di San Pietro, come la chiamano, e questo Papa appare lì sul balcone, lì fratelli e sorelle rappresenta veramente l'orgoglio dell'uomo che si vuole elevare al di sopra di tutti. E questo uomo si fa chiamare Santo Padre, questa è una grande eresia, perché il nostro Signore Gesù Cristo, che è il vero Maestro, il vero Pastore della Chiesa, il vero e unico Capo della Chiesa, che è Gesù Cristo, ha insegnato che noi non dobbiamo chiamare nessuno Santo Padre, non chiamate nessuno Padre sulla terra. L'ha detto Gesù, voi che mi ascoltate, Gesù disse non chiamate nessuno Padre sulla terra, perché uno solo, il Padre vostro, colui che è nei cieli, e allora è una grande eresia, una grande blasfemia, un grande peccato, una grande menzogna che il Papa, quell'uomo ribelle, peccatore contro la parola di Dio, si faccia chiamare Santo Padre, il Papa è un impostore, non è un vero servo di Gesù Cristo, è un falso profeta, un falso ministro, è un figlio del diavolo, perché stanno seguendo la menzogna di Satana, che è diventato il loro padre, è così. E ripeto, io non avevo in mente questa sera di parlare di queste cose, ma se le sto parlando non è un caso, perché c'è qualcuno di voi che deve ascoltare queste verità. Perciò la Chiesa papale, la Chiesa romana è una grande menzogna. E sapete tra l'altro di tutte queste statue che loro hanno fatto, questi idoli, tutte queste statue, queste reliquie, tutti questi oggetti che loro venerano, tutte queste statue, loro hanno fatto un business, perché in tutti questi cosiddetti santuari hanno fatto un commercio. Vai a Fatima, vai a Lourdes, vai al cosiddetto Medjugorje e fanno un business di tutte queste idolatrie, questi oggetti abominevoli. E come ho detto prima, le statue sono oggetti maledetti. Se tu hai una statua di un cosiddetto santo, di una cosiddetta madonna in casa tua, toglilo perché quell'oggetto porta la maledizione, perché va contro la volontà di Dio. Le statue sono maledette. Butta le vie. Se hai una statua in casa tua, prendi un martello e spezzala e buttala fuori e aggrappati a Gesù Cristo in verità, aggrappati al re del re, aggrappati alla verità del Vangelo e sarai libero. Alleluia, oh gloria, ehi, secca battaglia, alleluia, sarai guarito. Perché ti voglio dire, dietro le statue dei cosiddetti santi, delle cosiddette madonne, dietro le statue di Padre Pio, dietro le statue di questi cosiddetto San Gennaro e tutti quegli altri cosiddetti santi che la Chiesa venera, la Chiesa papale venera, dietro questi oggetti, dietro queste statue, ci sono delle entità, demoniache, che attirano le persone verso una falsa spiritualità e le persone vengono legate, vengono imprigioniate, vengono influenzate da questi spiriti ingannatori e ci sono persone che diventano schiave di queste statue, le mettono in un luogo alto perché le devono vedere, le devono venerare, le devono guardare, le devono adorare e mettono queste statue nei loro altarini e li portano le vele, li accendono le vele. Addirittura ho sentito di persone che portano dei cibi alle statue. Voi sapete che ci sono persone che sono arrivate a un così grande grado di ignoranza e di schiavitù anche qui in Italia nel 2018 che portano da mangiare alle statue, portano dei cibi, dei piatti alle statue, in segno di venerazione, in segno di riverenza, loro pensano di fare un'opera buona, di lodare queste cose. Fratelli e sorelle, cari che mi ascoltate, queste cose sono cose diaboliche, sono riti che praticavano i popoli pagani con le loro divinità fasulle. Non partecipate a queste cose, buttate via queste immagini maledette e adorate Gesù Cristo in spirito e in verità, cercate la sua verità perché la sua verità vi farà liberi. La verità di Gesù Cristo vi illuminerà, la verità del Vangelo vi salverà il Vangelo, leggete il Vangelo cari. Gesù Cristo, Dio non è una statua, Gesù Cristo è il re dei re, egli è spirito, egli è la verità, conoscetelo, cercatelo. Fuggite dall'errore, dal Vaticano corrotto, fuggite dalla chiesa papale che durante tanti anni vi ha ingannato. Sapete che durante la storia il papato o la chiesa papale, il Vaticano, hanno fatto cose terribili, orribili, abominevoli, tragiche durante la storia. Voi sapete che loro mandavano persone al rogo e ancora voi credere a questi papi corrotti? Mandavano le persone al rogo, torturavano delle persone che non la pensavano come loro, uccidevano i protestanti, uccidevano i bambini. Voi sapete che perfino durante le cosiddette crociate che il papato ha organizzato nel Medioevo, loro andavano nei paesi musulmani con la spada a uccidere le persone. Loro con le crociate, con queste cosiddette crociate in cui dei soldati andavano con delle armature e si mettevano una croce davanti, loro dicevano che dovevano convertire i pagani e andavano con le crociate a fare cose veramente terribili in certi paesi. Per questo che la Bibbia dice ciò che l'uomo semina, ciò raccoglierà. Ecco perché oggi nell'Europa sta avvenendo anche un disastro tramite l'ISIS o tramite certi membri di certe sette islamiche che vengono a uccidere in Europa, vengono a mettere le bombe, vengono a fare cose terribili perché il Vaticano faceva lo stesso nel Medioevo. E oggi il male che loro hanno seminato, quel male sta ricadendo addosso anche sull'Italia, sull'Europa. È così. Il Papa si è macchiato di sangue durante la storia. mandavano a rogo le persone, uccidevano i protestanti, hanno fatto cose terribili ma Gesù Cristo lo predisse. Gesù disse, guardate cosa dice in Giovanni, Giovanni al capitolo 16, Gesù Cristo predisse queste cose che stanno accadendo. Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. vi espelleranno dalle sinagoge, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio e vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Gesù Cristo ha predetto che sarebbero venute delle persone che avrebbero ucciso i cristiani, i veri credenti, nel nome di Dio. Ed è quello che la Chiesa papale corrotta faceva con i protestanti o con altre persone che non volevano sottomettersi al gioco di Roma del Papa. Loro li uccidevano nel nome di Dio. Oggi in giro, cari che mi ascoltate, ci sono dei musei dove voi potete vedere gli oggetti di tortura, gli oggetti che la Chiesa di Roma usava per torturare le persone, cose terribili. Loro hanno fatto cose orribili, crimini. Sono stati dei sanguinari questi papi e lo facevano nel nome di Dio. Ma loro non conoscevano il Padre. Loro erano schiavi del demonio, del diavolo. E così ancora oggi, cari che mi ascoltate, fino a pochi anni fa, fino a pochi anni fa, il Vaticano benediceva le armi dei nazisti. E ancora oggi, cari che mi ascoltate, nella Chiesa papale, nel Papa, c'è l'odio. Lui ha un'apparenza, questo Papa di oggi, questo cosiddetto Papa Francesco, lui ha un'apparenza di essere bravo, di essere tranquillo, di essere umile, ma in verità lui ha l'odio dentro di sé. Lui è un Gesuita. Lui è un'ipocrita. Lui è un'idolatra. Questo Papa, che oggi sta governando nello Stato del Vaticano, è un uomo falso. Lui si potrebbe, manderebbe uccidere i suoi oppositori. Sapete, se il Papa ascolta questo messaggio, lui mi odierebbe, mi vorrebbe far uccidere. Ma io, per amore di Gesù Cristo, predicherò la verità. Fino alla fine, fratelli e sorelle. E queste stesse verità, ascoltatemi, queste stesse verità, queste stesse cose, questo stesso messaggio che sto predicando adesso qui, davanti a voi su internet, io l'ho già predicato nelle piazze d'Italia, fuori dal Duomo di Milano, fuori dal Duomo di Mantova, fuori dalle cattedrali. Ho già predicato queste verità. Perché grazie al Signore il vero uomo di Dio ha il coraggio di dire la verità, di dire pubblicamente aggrappatevi a Cristo, fuggite dalla menzogna, fuggite dal Vaticano corrotto. sapete, come vi dicevo, molti uomini che fanno parte del clero, della gerarchia, della Chiesa Papale, loro vivono una doppia vita. Come vi dicevo, su internet c'è un servizio di un telegiornale che fanno vedere la doppia vita dei preti, il sesso, l'immoralità, le abominazioni che questi uomini praticano nelle saune gay, nelle saune omosessuali che ci sono a Roma, saune omosessuali frequentate da preti, da cardinali, che di giorno fanno la messa e di notte fanno le orge. oppure gli scandali che ci sono stati con questi cardinali che hanno palazzi, hanno appartamenti lussuosi al Vaticano, appartamenti da 300, da 500, da 700 mila euro, appartamenti di 300 metri quadrati dove abita solo un uomo, dove perfino il water, scusatemi, il water è rivestito d'oro, hanno il water d'oro, hanno i rubinetti d'oro, appartamenti lussuosi da 300, 500 metri quadrati e poi sotto casa vedono il mendicante e non sono capaci di aiutarlo e loro chiedono soldi, soldi alle persone, soldi per battezzare, soldi per confessarti e poi loro non hanno nessun potere di perdonarti. Volete accogliere la verità di Gesù Cristo? Voi dovete credere solo a Gesù Cristo. C'è un solo Dio, un solo Mediatore fra Dio agli uomini che è Gesù Cristo, è l'unico Salvatore. Noi dobbiamo chiedere a Gesù Cristo per dono dei peccati, a nessun uomo. Noi dobbiamo confessarci davanti a Dio e non davanti a nessun uomo. Noi dobbiamo seguire la parola di Dio e non i dogmi di un sistema ecclesiastico ecclesiastico, fasullo, corrotto e idolatrico. Se voi, cari che mi ascoltate, e mi rivolgo a tutti voi, soprattutto increduli, persone che non credete in Dio oppure credete superficialmente o vi definite cattolici, ma non conoscete ancora la verità, se volete essere salvati dovete credere soltanto in Gesù Cristo. Dovete pentirvi di tutti i vostri peccati e dei vostri idoli e invocare il nome di Gesù Cristo, chiedere perdono a Lui direttamente. Amen, alleluia! invocare il nome di Gesù e dire Signore Gesù Cristo perdona il mio peccato, perdona la mia ignoranza Signore, io ero cieco ma adesso voglio trovare la luce in Te. Se Tu vuoi la salvezza devi fuggire dalla Chiesa Papale, devi fuggire dal Vaticano corrotto, devi fuggire dall'idolatria, devi fuggire dalla menzogna e abbracciare la verità del nostro Signore Gesù Cristo e della Bibbia e del Vangelo, devi abbandonare gli idoli, devi pregare solo Gesù, alleluia! Guardate dove mi trovo, questo adesso è diventato un Tempio di Dio, il Tempio di Dio non è un luogo materiale, anche qui noi possiamo adorare Dio, pregare Dio, perché ovunque ci sono due o tre nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, la Chiesa non è un locale, un palazzo, un edificio particolare, ma la Chiesa siamo noi, i veri credenti che in qualsiasi luogo ci raduniamo nel nome del Signore, perciò se tu vuoi essere salvato devi credere solo a Gesù Cristo, unico Salvatore e Signore delle nostre vite, devi seguire la Bibbia, seguire il Vangelo, abbandonare i falsi dogmi, abbandonare l'idolatria, abbandonare il Vaticano corrotto e devi seguire Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. Amen, gloria al Signore. se qualcuno mi vuole contattare in privato per saperne di più del nostro Signore Gesù Cristo, della vera fede, ti posso lasciare il mio numero, l'importante è che mi scrivi con rispetto, mi scrivi con sincerità e io sono disponibile ad aiutarti a trovare la verità del nostro Signore Gesù Cristo. a Dio tutta la gloria, segnati il mio numero è 339 455 6834 contattami quando vuoi e ti aiuterò a uscire dalla menzogna della Chiesa papale, della Chiesa satanica, della Chiesa corrotta del Vaticano, io ti aiuterò alleluia, perché la Bibbia dice che noi dobbiamo strappare le anime dal fuoco con la parola di Dio, io ti aiuterò a uscire dalle tenebre alleluia, affinché tu possa incontrare Gesù Nazareno, affinché tu possa alleluia, incontrare la verità, incontrare Cristo e tu possa essere salvato e tu possa diventare un mio fratello, una mia sorella come tanti che mi stanno ascoltando che sono fratelli e sorelle in Cristo e che un giorno noi ci incontreremo nel regno dei cieli. Oh alleluia, 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 perciò caro si umile, accogli questo messaggio, questo consiglio, questo invito a seguire Cristo, la verità e a uscire dalla menzogna. gloria a Dio, questa sera, alleluia, il Signore ti sta dando un'opportunità. Ti do ancora il mio numero 339 455 6834, contattatemi pure su WhatsApp, amen, io sono al servizio di Cristo e di tutti coloro che vogliono conoscere la verità, contattatemi pure, mi chiamo fratello Stefano, alla gloria di Gesù Cristo, amen, predicatore della verità, perché questo il Signore mi ha chiamato a fare per la sua gloria e per la sua lode. E anche voi fratelli cristiani, fratelli evangelici, guardatevi dall'ipocrisia, dal fariseismo, guardatevi dagli scrivi, perché gli scrivi sono anche purtroppo a volte in mezzo a noi, non solo nella Chiesa papale corrotta, ma anche in mezzo a noi a volte si infiltra questo spirito farisaico, questa ipocrisia, questa falsità, cioè persone che dicono di conoscere la Bibbia, dicono di conoscere la parola, ma non la praticano, non la vivono, non la osservano, gli scrivi sono coloro che vivono una doppia vita, alla domenica lodano il Signore, poi il lunedì vanno a peccare, a fare tante cose orribili, tu sei un ipocrita, sei un falso, sei un bugiardo, tu sei un fariseo, sei uno scriva, lo scriva è colui che vive nell'ipocrisia, che vive una doppia vita, che con la bocca loda il Signore, ma con il corpo adora Satana, perché vive nei peccati, vive nell'immoralità, nei vizi, tu lodi Gesù con la bocca, dici lode, lode a Dio, Gesù ti amo, Gesù sei grande, e poi col tuo corpo fai tanti peccati, anche tu sei uno scriva, ti devi ravvedere, ti devi pentire, ti devi umiliare davanti alla verità di Cristo risorto, alleluia, davanti alla verità, la luce dell'Evangelo del Re dei Re, alleluia, perché se tu non ti ravvedi, tu andrai nello stagno di fuoco di zolfo, anche se ti proclami evangelico, anche se dici di essere un pastore, perché Dio conosce i Suoi, non basta dire Signore e Signore, non basta predicare, non basta lodare Gesù con la lingua, dobbiamo vivere la Sua parola, dobbiamo praticare la rettitudine, praticare la santità, dobbiamo praticare la fede, praticare la parola, essere coerenti, essere uomini che vivono per lo Spirito e che camminano nella luce, che camminano nella sincerità, che veramente sono uomini integri, alleluia, questo vuole il Signore, perciò questo messaggio è rivolto a tutti, riflettete, carissimi, e il Signore vi darà grazia, nel nome di Gesù Cristo, a Dio tutta la gloria, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, Amen e Amen, Alleluia.